MULTATULI Max Avelar è a narrare la sasta del suo caffè della compagnia del commercio hollandese. MULTATULI Da esempio, sa scolonia sfrutta iambalangio al mannoso a suoi stati europei. Su commercio del suo caffè e delle spezie da esa scolonia hollandese in Indonesia fia però a danno della popolazione locale riduita in povertà e famene. MULTATULI Eduard West Decker, funzionario gappo distretto di una provincia coloniale denunziata con su romanzo suo questo sistema corrompido ammanizzato in pare con sordugonesi indigenos. MULTATULI Finza sia a Salenta, assagabbo de Sottichentoso su libero abberidi uno dibattito sopra del suo dominio coloniale. MULTATULI E a Pustisi, in su noi Ghentoso, ispirasse un movimento di liberazione nazionale indonesiano. MULTATULI per l'importante di ogni tempo. Un libro che deve nemmeno narrare a Solsardoso e a Sardinia. Su libro si accatta di un formato elettronico buro. In sasmeggios libreriasa o in saribs.it prosa scomporata in linea. MULTATULI 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 MULTATULI